Con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo di fronte al mercato ittico di Pescara, vendita al minuto, mercato ittico che come noto è stato chiuso ieri per una settimana dopo una ispezione della NAS di Pescara che con il servizio veterinario dell'ASLA ha riscontrato alcune anomalie, alcune carenze igienico-sanitarie che devono essere sanate assolutamente. Vicino a me l'assessore comunale di Pescara Cremonese, il vicepresidente della Conf Commercio Padovano. Assessore, ovviamente voi vi siete subito uniformati al provvedimento del NAS. Quali saranno i lavori che effettuerete e quando partiranno i lavori? Non appena abbiamo ricevuto il provvedimento del NAS chiaramente abbiamo provveduto a fare le operazioni conseguenziali. Già ieri pomeriggio il sindaco Carle Masci, il sottoscritto di tutta la struttura, ha provveduto a stilare una roadmap. Noi riteniamo che i lavori possano già iniziare lunedì e riteniamo che entro venerdì ragionevolmente possono essere terminati restituendo alla città il mercato ittico al minuto. Diciamo che sono state riscontrate alcune anomalie come ad esempio muffa, ragnatele, mattonele di velte che sono comunque delle situazioni che possono e debbono essere sanate. Si cercherà di fare in modo di concludere il tutto entro una settimana. Intanto l'assessore Cremonese e il sindaco Masci stanno lavorando per trovare una location alternativa per far sì che le sei ditte possano continuare a vendere il pesce. Sì assolutamente sì, noi già ieri pomeriggio insieme ai dirigenti abbiamo trovato una soluzione tampone per gli operatori commerciali ai quali chiaramente va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza e tuttavia non hanno subito alcun danno perché abbiamo spostato gli operatori commerciali dal mercato ittico al dettaglio al mercato ittico all'ingrosso. Aggiungo soltanto che il mercato in questione ma anche altri mercati hanno bisogno di interventi strutturali e l'amministrazione sta già provvedendo a trovare nei capitoli di bilancio le somme necessarie per rimettere, per far ripartire i mercati. Padovano, cosa dire di questa situazione? Il mercato ittico al minuto è stato spostato leggermente a 50 metri di fronte all'interno del mercato ittico all'ingrosso. Questo è per tamponare perché il pesce è deperibile, i commercianti ieri avevano comprato il pesce e non potevano lasciare il pesce dentro ai magazzini. Detto questo, passiamo avanti. Subito la struttura del mercato ittico al minuto, ho detto ai nostri associati dei portatori di interesse che c'è bisogno da parte loro della collaborazione, cioè la manutenzione ordinaria si deve trovare anche attraverso la loro buona volontà. Ribadisco, il progetto Miglio Zero è una delle soluzioni che dobbiamo affrontare subito perché in questo modo daremo a ogni persona la responsabilità diretta del punto vendita.